allora dopo gara veramente vibrante gara vibrante terza vittoria però consecutiva della coccinella e arrivano adesso anche le sultanze amiccio ci voleva questa vittoria sì ci voleva stiamo risalendo piano piano la china e d'altronde i risultati sul campo parlano da quando c'è stato l'avvicendamento del mister non voglio fare polemiche però tre risultati positivi una sconfitta immeritata quindi vediamo la luce la luce si vede perché si inizia lontano 20 giorni fa con la vittoria in esterna sul campo del santangema se non andiamo molto ostico tra l'altro poi bissato la settimana scorsa ma questa questa è stata veramente una grande prova una grande partita ritmi alti loro hanno fatto di tutto per farci nervosire un po' siamo cascati pure noi siete state molto bravi soprattutto proprio a mantenere la calma soprattutto in momenti molto difficile della partita ma vi siete dati veramente una mano si diciamo che siamo più coese siamo ognuno da una mano all'altra non che prima non lo fossimo però c'è un'area molto più tranquilla libera ognuno si sente in grado di fare tutto e siamo piano piano stiamo risalendo siamo contenti abbiamo fatto una grandissima partita a mio avviso sofferta abbiamo fatto vedere ottime cose bel gioco a tratti anzi a molti tratti e se poi vediamo gli highlights penso che abbiamo tirato il triplo rispetto a loro quindi siamo contenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti